buonasera a tutti sono luigio naracu se preferite insieme a me c'è il carissimo ciao ragazzoli blazzi blazzi buon blazzi vai il nostro caro saian barbuto e bentornati sul mio canale per l'appuntamento ormai semestrale annuale più atteso la tier list dei pg a questo giro abbiamo preso tutti i dockham fest del gioco divisi per tier con l'aggiunta di alcuni ssr non dockham fest interessanti e ora vi andremo a spiegare come sono divisi tier e cosa vedrete in questa tier list abbiamo diviso tutti i pg in vari tier che vanno da z il migliore di tutti a e le ciofeche assolute naturalmente dato che ci sono un totale di penso 80 personaggi non andremo a parlare personaggio per personaggio per quelli che sono almeno nei tier un pochino più bassi ma parleremo globalmente del tier poi andremo a vedere quei due tre personaggi più interessanti condividi con me blazzi si vedremo perché interessanti voi vedremo ok quindi mettetevi comodo perché sarà lungo spero che quest'anno di riuscire a far tutto quanto in un video solo ma le possibilità sono davvero 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 basse quindi partiamo con il tier e il tier e è quello delle ciofeche assurde sono quei pg che o avranno un esa o avranno un esa cioè non c'è una seconda possibilità però ci sono alcuni pg da considerare un pochino in questo tier un pg che mi viene da dire da considerare è il trunk super saiyan buffer che non è una ciofeca questo è l'unico del tier e che non è una ciofeca questo più che tier e vendono come menzione d'onore ci può stare anche perché la tier list è solo dei dockham fest però però ci siamo permessi di inserire comunque dentro personaggi tra virgolette che si avvicinassero ai livelli di pg dockham fest esattamente e lui è rientrato sì come menzione d'onore nel nella e mentre per quanto riguarda gli altri ecco la la cosa importante da dire è che vedete pg come zamasu veget blu fisico è palese è palese che sia in attesa di un ezza e che questa classifica sia stata questa tier in realtà è stata messa su prima di prima di sapere le informazioni però non so questo video quando lo starete vedendo però noi le informazioni in questo momento non le abbiamo io prego per il 28 ecco quindi quindi questo tier ecco diciamo non ci soffermiamo tantissimo su anche per questo motivo e cioè perché alcuni personaggi sono attualmente impossibili da cioè si trovano lì temporaneamente purtroppo lo vedo purtroppo però ce ne sono altri che non si ritrovano qua temporaneamente no rimarranno qua vita natural durante parliamo quindi della scelta dei due pg che saranno qua vita natural durante del anzi no dei tre perché ce ne sono tre dpg che hanno o già ricevuto un esa o non avranno esa fino alla fine del gioco probabilmente che però sono qua allora il duo dpg gohan ultimate e broli str perché nella e broli str non serve praticamente a nulla è triste da dire che stai facendo io nulla sentono rumori strani provenire da te nulla sarà il microfono delle gufie le immagini del microfono dicevo broli str purtroppo non serve tecnicamente a nulla sarebbe un pg interessante per il torneo ma il torneo è la modalità peggiore mai creata in un videogioco per cellulari dagli ultimi 25 anni quindi capite che quell'utilità non è che sia chissà quanto ha lo stesso nome di altri 50 broli che quindi o giocate lui o giocate loro il broli fisico e il broli lr str non c'è una motivazione vera e propria per giocarlo al posto di uno di questi e quindi finisce nel dimenticatoio guanal ultimate inter ragazzi è una tristezza è un pg che in realtà non è che faccia così cagare però non ha modo di essere giocato non ha utilità nell'essere giocato è sempre stato un leader è un personaggio molto messo da parte ed è rimasto così anche dopo l'esa quindi purtroppo anche lui è in queste condizioni buonesa allora buonesa sarà oggetto di dibattito metterlo così in basso perché secondo alcuni potrebbe stare anche più in alto però a mio avviso soffre la stessa cosa che soffre broli ovvero l'ingiocabilità totale con darbura un pochino di giocabilità in più ce la può avere nel senso che darbura è il nuovo leader del busaga potenza di extreme busaga buona avrebbe 9 chi di base buona avrebbe un pochino di utilità in più però ragazzi non c'è un evento nessuno in cui mi son detto cavolo è uscito l'esa di buone l'esa di buone può aiutare poi è naturale avete un account con pochi pg avete buon full ability perché l'avete pulato 5 volte le cose possono cambiare ma in ottica oggettiva buon non aiuta e per il prossimo pg voglio il caro blasi che faccia l'introduzione perché c'erano tempi in cui ultimate gone str era la merda più grande mai uscita tempi in cui goku super saiyan 3 angel tech era la merda più grande mai uscita ma poi qualcuno ha creato questo pg qualcuno che non sapeva che cosa fare nella sua vita blasi lascio a te l'onore di introdurlo vabbè c'è poco da dire guarda fosse stato un buon ultimate sarebbe venuto da dire tipo sono un buon ultimate semplice sono uno dei pg più forti di dragon ball z ma faccio cagare tipo in qualsiasi gioco possibile ed immaginabile e questo è una sorpresa è una piccola sorpresa anche perché diciamo che come pg il fatto che abbia le trasformazioni soprattutto che ha la trasformazione nel nel pg che comunque si è confrontato con con vedget e vabbè l'avete capito insomma parliamo di esistente perché lo dicono anche buone più forte di kit bu come livello di combattimento beh si più intelligente ci può stare però ecco è proprio quello il problema cioè ci sono alcuni personaggi che in teoria dovrebbero essere veramente veramente forti ma fra i più forti invece addirittura il trio cioè io mi sto rendendo adesso adesso soltanto contro di sta cosa cioè abbiamo kit bu bu one forse ho anticipato che c'è kit bu int nel nel tieremo va bene si vede si vede si vede lo staranno vedendo cioè abbiamo kit bu bu one e praticamente bu evo tutte le possibili forme di bu praticamente delle più forti perché le altre lasciamo ripetere le possibili forme di bu forme di bu più forti tutte nel tieremo beh c'è questo vi fa capire che salvo un pochino la specie quello è vero quello è vero quello è vero però ragazzi è una roba incredibile io sarei dire credo che chiunque sia d'accordo con me a sto punto anche gg soprattutto che abbiamo il peggior class leader non del duemila diciannove duemila ma proprio di sempre io abbiamo il peggior class leader di sempre leader transformation boost quando transformation boost quando è uscito lui non sapeva neanche che team fosse un po l'effetto full power e dopo la sua uscita nessuno sanno di mente nessuno giocherebbe bu evo come leader transformation boost i tre bu che vedete hanno tutti e tre gli stessi difetti un po meno buonesa non hanno un cavolo di link non hanno un cavolo di difesa e non hanno un cavolo di utility l'unico modo per salvarsi per bu evo e diventare buccolo peccato che diventa sempre butenks sempre sempre butenks o buon buccolo sarebbe stata l'unica cosa che l'avrebbe fatto uscire fuori da questo tier l'unica la tristezza di essere un majin bu comunque questo è il tier e alla fine sono tolti pochi tutti i pg che saliranno di tier zamasu salirà di tier vegeta int salirà di tier veget blu salirà di tier rosea gl rosea gl broli tech non mi pronuncio perché devono proprio cambiare come l'hanno pensato per farlo salire di tier però c'è devono fare davvero delle grandi cavolate negli esa per farli rimanere qua diciamo che questi sono i più papabili a salire broli tech io l'ho tenuto lì perché c'è ancora presto secondo me non si sa nemmeno se se no god arriveranno agli et quindi il problema di broli tech che per le percentuali di difesa con la sua passiva se perdeva valori gli equipment lo salvavano ma perdeva percentuali neanche gli equipment possono salvarlo passiamo adesso al tier successivo no 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 cioè qual era l'errore e dopo aver trattato il tier e ovvero il tier delle ciofeche assurde dei pg che vorreste prendere e buttare nel cesso trattiamo il tier d ovvero il tier di pg che sempre sono ciofeche ma che possono avere una minima utilità per farvi un esempio qua abbiamo ultimate gohan e omega che sono class leader che comunque possono essere usati e omega siete obbligati a usarlo altrimenti era nel tier e siete obbligati a usarlo oppure abbiamo pg come vegeta quarto che si può ancora giocare bene in un super agl o in un goku family oppure come il grandissimo c17 messo lì sì il perché di questo c17 in realtà è una storia abbastanza buffa non hanno messo sc17 del tier della tai della tier lista il che vi fa già capire quanto si è trattato bene cd super c17 comunque a parte battute e tristezze di sc17 anche questo è un tier in cui non sono ordinati arriveranno poi i tier anche belli ordinati e che c'è poco da dire sono pg che hanno quasi tutti lo stesso difetto problemi difensivi immondi quasi tutti le buscano ma le buscano tanto e in riva le road non le puoi buscare tanto purtroppo pg che non ha non sono con questo è vegeta che però ha perso quasi ogni tipo di utilità tranne in alcune versioni del goku family super agl come ho detto ultimate gohan quella volta ogni morte di papa che si ricorda di avere una passiva perché se lo deve ricordare e poi come menzione speciale del tier d di cui spenderemo due parole c'è la carissima brienne chateau o meglio bri briennevo che per adesso è nella d però nel momento in cui uscirà un dockham festival peppy gals crollerà totalmente rimane comunque un pg interessante forse meglio di quasi tutti questi dockham festival che ci sono in questo tier però è sempre un pg che nel futuro crollerà in e magari non uscirà dalla top ma crollerà di sicuro in e qualcosa anche a te da dire blasi sui pg di questo tier assolutamente nulla assolutamente questo forse è il tier più facile in assoluto veramente è palese palese e naturalmente anche in questo tier c'è una forma di gohan perché si ultimate ovviamente esatto oltre al fatto che c'è l'ultimate che ormai gli ultimate gohan quando ne uscirà uno forte penso che blasi piangerà lacrime no vabbè aspetta specifica specifica altimente perché sì 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 di gohan forte ne sono usciti un paio di gohan forte quando uscirà su dockham un ultimate gohan che appena uscito possiamo dire nella top 5 dei migliori pg del gioco allora il mondo è allora perché i cinque addi non ci sono riusciti passiamo allora iniziare a parlare dei pg leggermente più utili entriamo nell'ultima tier non in ordine le ultime tre posizioni la c la d e la e sono quelle di pg ormai che stanno pian pianino uscendo nel meta nella c ci sono ma in realtà questa è mezza ordinata e attenzione questa è mezza ordinata molto come dire ci siamo talmente soggettive nella c che sono quasi tutti allo stesso livello tranne un paio che stanno sotto tutto giusto tapion però nonostante questo nella c ci sono pg che possono essere buoni in una modalità o che in generale sono giocati come sostituti o di altri sostituti o sostituti di pg decisamente molto più performanti per farvi un esempio gogetta quarto una volta miglior pg del gioco ora purtroppo ha dei problemi enormi in difesa il suo counter dovete sperare lanci non le special ma spesso il busca sangue comunque freezer evo che era la speranza degli extreme per la road extreme tech una volta passata quella road sta molto sotto il goku evo e ci sono altri pg simili alcune menzioni d'onore pg particolari qua dentro che mi va di trattare sono la oppa ishin buffer davvero buono pochissime categori ma da quel critico di passiva tutti è attualmente giocata non mi ricordo se anche nel potare optimale ma è di sicuro in turbo 7 che il secondo team ha oggi come danno sotto conquest e conquest non sta né in cielo né in terra proprio per il fatto che da critico da critico gratis abbiamo veger super saiyan 3 esa uno degli esa più inutili del mondo perché non è cambiato praticamente nulla però il road rimane un must have per ogni road che può fare black fisico è quello global che abbiamo analizzato perché il migliore che in alcuni frangenti viene preferito all'inter nonostante sia inferiore golden cooler pg anche questo molto interessante carino però da avere ad ability altrimenti non serve a nulla fu leader della sua categoria heroes buono in evasione carino ma niente eccezionale e poi il duo dei pg che uno mi dispiace che sia in questo tier l'altro ci godo come pochi omega str mi dispiace molto che sia in questo punto però è ingiocabile è un buffer full power debuffer attacco nemico in road è davvero buono ma poche categorie di cui una non la puoi giocare perché c'è quella merda di omega fisico nel momento in cui uscirà naturo sharon leader draghi malvagi di categoria full power perché io so che uscirà non mi arrenderò a costi dove andrà la bandai obbligata a far uscire per chiudere il gioco allora questo pg di sicuro guadagnerà però devo uscire devo uscire insieme a qualche altro dragho malvagio full power altrimenti nulla mentre per il pg che si nasconde sempre sotto ai ring per il pg che prepara le ciambelle lascio parlare blasi cioè devi far parlare proprio me perché perché è uscito nel global inizialmente per questo esattamente parla te del grande supereroe di shit allora senti io non sinceramente ti dico la verità non mi perderò tanto in chiacchiere allora it è comunque a livello di pg passiva è carino come pg assolutamente su quello non ci piove può fare cose secondo me interessanti e carine la sua reale utilità secondo me ai tempi poteva essere più o meno è reale utilità attenzione molto molto più o meno poteva essere la sua leader il problema è che successivamente si è scoperto che comunque con jiren probabilmente saresti andati meglio voi credetemi ragazzi inutile perderci più di tanti in chiacchiere con l'uscita di goku kaio c'è poco da dire giocate basta fine fine non esiste più la sua leader skill eliminatela basta toglietela di mezzo e no ovviamente se c'è se c'avete lui non avete goku kaio vabbè poi dipende dagli account parlando per un account completo che a tutti i pg del gioco buttate proprio tutto togliete la leader skill da sto pg metteteci che vedevo di tubì com'era tubire list vai mettetevi tubire list nulla poco da dire c'è da dire che tra qualche mese se uscirà la road universe x it sarà obbligatorio d'avere però però noi dobbiamo parlare di pg attualmente al presente it è come quando è uscito inutile ed eccoci finalmente nella tira ordinata il tier b a s e z sono ordinati questa è stata la parte più complessa del lavoro quindi cercare di cercare di fare più oggettivamente possibile questi tier e andiamo a parlare pg per pg circa tranne un paio di casi in cui affronteremo gruppi di pg e il caso è quello che affrontiamo subito gli ultimi 4 del tier b sono i due nuovi super saiyan blu attualmente esclusiva temporanea global bergamo sempre esclusiva temporanea global e broli agl esa su broli agl esa spendo un paio di parole molto rapidamente una quando è riuscito era sotto certi aspetti più forti del fisico come pg singolo poi naturalmente perso molto anche full ability difficilmente lo giocherete da qualche parte però è un buon sostituto in quanto la tier b è quella dei pg che o non sono il massimo ma se le iniziano a cavicchiare o sono degli ottimi sostituti e broli agl esa se portato a livello 140 è un sostituto più che buono in ogni suo team se affiancato naturalmente da broli tech da broli fisico entrambe le versioni o altri pg i due super saiyan blu sono una rivelazione hanno distrutto la difficoltà dell'evento più difficile del gioco che era la la rival con tournament of power che ragazzi fidatevi non c'è nulla di più difficile della rival tournament of power in quanto arriva al tournament of power senza i due super saiyan blu bergamo e ck non si fa cioè non è un se sculo ce la faccio non si fa questi due insieme però l'hanno resa una passeggiata e infine c'è la personificazione di priscilla in codesto gioco che non è un coniglio ma è un lupo ovvero bergamo penso che sia la cosa meno aspettata che sia mai accaduto in questo gioco che un pg della minchia come bergamo che non era mai stato cagato quando è uscito ogni volta che qualcuno lo pullava ci piangeva e ci sputava diventasse un muro inamovibile che tanca qualsiasi cosa esistente in rival dragon ball history dipende quanto dura la road qualcosa da spendere anche te blasi su bergamo nulla da dire no nulla da dire l'abbiamo già provati tra l'altro sul mio canale insomma ho mostrato quanto come pg possono avere delle potenzialità veramente veramente buone elevate ovviamente sempre fino ad un certo punto è perché la giocabilità non è che sia tutta sta gran cosa soprattutto per bergamo però se li mettete a fare quello che possono fare bergamo soprattutto il suo lavoro il loro lavoro lo fanno in maniera sporca dai sì anche sporca soprattutto anche quello ci sta abbiamo poi bardak super saian 3 bardak il mio timore pre questo dual jap era che crollasse come utilità la cosa non si è avverata e si non più leader super saian 3 ma questo era palese è un pg che ha problemi difensivi anche abbastanza grossi sia pre che post special ma rimane un pg importante da giocare nel team per via dei suoi link che funzionano anche con goku quando non è super saian 3 quindi non crolla troppo di posizione rimane una posizione abbastanza buona certo non è il super saian 3 migliore vedrete altri super saian 3 in questa lista e sono tutti in posizioni più alte ma non è anche il peggiore vero shitku vero broly tech quindi se la cava sempre un bel buffer quando si attiva ma è vecchio è un altro caso di miglior pg del gioco che ha ricevuto un crollo come vedete abbiamo già affrontato abbiamo già trovato due dei precedenti migliori pg del gioco e i loro crolli sono stati abbastanza grossi abbiamo poi rosè str ragazzi rosè str sul patibolo rosè str attualmente ancora utile è giocato nell'optimal potara non nel turbo il suo buff alla difesa è ottimo linka decentemente no non è nel potara nel realm se non sbaglio nel realm non nel potara comunque il problema è che ormai rosè agl sta per avere l'esa nel momento in cui rosè agl riceverà l'esa rosè str cadrà nella e cioè perché diventerà totalmente inutile è praticamente ingiocabile fino ad allora rimane questo spiraglio di luce però è un pg che ormai è morto e rimarrà morto per molto tempo abbiamo poi gotheng super saian 3 tech lui se la cava non è il pg della vita ma è legger me anzi no è decisamente superiore al fisico nonostante all'uscita si pensasse fossero equivalenti lui riesce a tancare qualcosa fpf esa fantastico che mi piace molto ha perso un po' con l'arrivo di fpf lr se si sa usare fpf lr però avere fpf fisico a full ability fidatevi che fa male bel pg l'ho sempre adorato e l'adoro ancora di più great saiamen 3 se non erro è la prova che i counter significano qualcosa ancora nel gioco buon pg ha preso raggette buttato fuori dalla top in quanto è una versione riveduta corretta e migliorata di raggetta ed è comunque optimale nel suo team si gioca in future dove anche il pg che fa più danno buono richiede ability e delimited non avesse richieduto per forza ability non fosse stato limited magari sarebbe stato qualcosa in più però purtroppo è così giren è su giren dato che il torneo del potere lo facciamo affrontare a blasi lascio parlare blasi ha parlato di it gli faccio fare tutta la triade ma guarda è inutile che mi fai parlare perché mi spenderò davvero poco allora su giren pochissimo da dire perché non dico che valga lo stesso discorso per it ma quasi nel senso almeno questo qui nelle road dice veramente la sua lo giocate tranquillamente come leader ve l'ho fatto capire comunque che è sicuramente un attimino meglio di it almeno per quanto riguarda il retornamento of power quello poco ma sicuro però sta sotto ovviamente il nuovo kokukaio poco da dire quindi ha perso anche quella quell'utilità però per il resto la sua utilità maggiore ecco secondo me coraggimi se sbagli oggi c'è per quanto riguarda la road come modalità se giocate giren e stiva la passiva probabilmente avete vinto quello stage della road esatto c'è da dire però una cosa di giren giren è impostato probabilmente il pg quando è uscito più deludente del mondo io mi ricordo ancora quando è uscito il leak del tour di giren nel tsc siamo rimasti non male di più perché non ci sta dire giren la sua passiva e tutto quanto è un peccato si vabbè ma prendiamolo come una fase embrionale del personaggio perché lui è l'unico a parte il free to play entro il sesto anniversario uscirà un giren v2 e quello probabilmente sarà giren con active che si toglie la maglietta bello cazzuto abbiamo poi kid goku che mi mi dispiace stia qua perché un pg comunque simpatico da giocare ma giocabilità è la morta cioè si gioca in due team in croce di cui è leader e sono team free to play soprattutto il boys and girls è prevalentemente un team free to play sono team spiziosi da giocare ma nulla di che più che altro non siamo più che altro non siamo più che altro di avere qualche lr free to play carina di cui uno è davvero free to play perché goku bull ma non penso sia possibile da nessuno reputarla free to play però sono team carini ecco il problema è che sono carini e il pg fuori da quei team non si gioca perché come pg singolo di sicuro sarebbe stato nell'a però qua bisogna affrontare anche l'utilità globale del pg nel meta e goku kid il mio ancora ssr non è ancora tour vi faccio capire quindi quanto reputo importante il pg purtroppo abbiamo poi un crollo che qua già so che scatenerà l'inferno vedget fisico nella b ragazzi vedget fisico non è più il leader di busaga e detto questo detta tutta non è più leader perché attualmente il miglior busaga è leader dal darbula con amico vedget fisico in modo a poter giocare vegeta gl veget fisico ha problemi di a problemi di quasi ogni cosa link peggiori della gl e soprattutto ha davvero poca riduzione del danno la gl è meglio lui in ogni cosa e attualmente che ha perso anche la posizione di leader rimane sì con un apt potenziale enorme ma non lo giocate cioè non c'è motivazione di giocarlo altro pg che ha perso tantissimo che appena uscito sembrava la cosa più rotta poi andato a tour e si è capito che non sapevano come minchia fare il tour quindi l'hanno scazzato completamente e goku ultra instinct goku ultra instinct è un classico esempio di come le forme evo bandai le azzecco una volta su tre perché voi non volete mai che vi vada ultra instinct perché a ultra instinct è fatto di carta velina un pugno implode li evita ne evita tre su quattro ma quel quarto che si becca in faccia implode malamente e diciamolo in genere è sempre una specie si lui ha l'abilità speciale non c'è scritto nella passione la passiva ci dovrebbe essere scritto il nemico lancerà sempre una specie su questo pg questo pg non può evadere le specie è una cosa sottintesa del pg che conoscono solo chi l'ha provato nella famosissima road realm of god prima dell'uscita di pg nuovi ed è stato la ogni volta così 50 e 50 50 e 50 50 e evitava vinceva non evitava ricominciava da capo la road realm of god è stato un incubo all'inizio ultimo pg di questo tier però che voglio un attimino lodare nonostante all'inizio non ci pensassi troppo bene è goku evo goku evo in quanto è uno dei pochi pg in cui che se ne pullate 10 copie potete tenerne due perché anche ssr è un pg più che buono è purtroppo poco giocabile non è optimale da nessuna parte ha danni che fanno ridere più va avanti peggio è in difesa e tutto quanto nell'eroa della rival però aiuta nell'eroa della rival aiuta assolutamente quindi è un pg che non è più che non è mai stato in realtà qualcosa però è un passettino da là gli mancava quel poco per rimanere nella non c'è rimasto perché nell'abbiamo pg che iniziano a fare danni abbastanza ampi ma soprattutto iniziano a essere davvero optimali ottimali o anche solo delle prime scelte o ed eccoci entrare nel mentre potete notare che c'è feliciano con noi che vi saluta ed eccoci entrare nella parte più calda della pop della tier tier a nella tiera abbiamo i pg buoni sono pg buoni che possono essere utilizzati non per forza i migliori nel loro campo ma fanno quello che vedevano e lo fanno bene possono hanno qualche difetto non sono perfetti ma se la cavano anche se alcuni nelle posizioni più alte hanno solo la giocabilità come problema in ultima di queste posizioni abbiamo l'ultimo vecchio baluardo dei pg non esa ovvero cooler fisico secondo molti un pg sovravalutato secondo me è l'unico 120 per cento che riesce ancora a dir la sua bisogna averlo abiliti duo superiore non c'è nulla da dire mi averlo ad abiliti alta altrimenti non ha il minimo senso di essere giocato abbiamo poi il primo dei due super saian 3 xeno ovvero vegeta i due super saian 3 xeno a tour sono stati una piacevole scoperta vegeta è quello che ci perde un pochino nonostante ne abbia trovati quattro però se la cava si può giocare tranquillamente nel super saian 3 il fatto che ha shattering the limits insieme a flash aiuta non poco quella meba vivente di goku super saian 3 lr se la cava fa quello che deve difende attacca è buono abbiamo poi black hint allora black hint ha dei problemi ha molti problemi al solito problema della lentezza lento è lento purtroppo si è lento come una morte il che è utile nella rival dove non lo ferisce più nulla però ci sono momenti in cui voi vi dimenticherete che si può trasformare il rosè lento non è leader del suo team ha tanti problemi però in rival è una bestia settata di sangue in road ad ability aiuta non è chissà cosa ma aiuta quindi si becca una posizione bassa nell'ha ma l'ha ci sta abbiamo poi goku kai o esa che io non sono uscito a fare quindi spero torni presto il suo esa pg devastante in road fa danni che non stanno in cielo né in terro devastante nei dokkan event in rival è più inutile di mr satan nell'anime quindi capite che ha un problema abbastanza grave ovvero come è giusto che sia dopo 7 turni vi dimenticate che esiste lo buttate fuori da rotazione ogni volta che lo vedete studiate freddo ciò nonostante un pg che i danni li fa quello che deve fare lo fa link buoni quindi ci sta una supposizione golden tech esa fantastico di un pg davvero buono lo gioco sempre quando da fare le road in cui si può giocare non linka benissimo non è un leader non è optimale da nessuna parte ma in road lineage of evil lo giocherò poi in realtà è strongest clan in space vabbè frizia clan lo giocherò nella road conquest quando uscirà lo giocherò ovunque si può giocare è un aiuto non da poco perché ora può tankare a prescindere di hp e quando ne ha tanti tank anche bene abbiamo poi il duo delle meraviglie in cui troviamo l'ennesimo pg migliore no non è mai stato alla fin finale dei nostri tier oh si blasi tarles è stato secondo quell'anno non primo tarles non è stato mai primo no mai è stato primo nel mio cuore quindi l'ennesimo pg mega top che è crollato perché è crollato tarles perché stanno uscendo buffer di ogni tipo stanno iniziando a uscire dei buffer che hanno 120% di difesa rimane comunque un leader la forma evo rimane comunque un pg che tanka però deve andare in evo e non è facile e tutto quanto probabilmente prossima tier sarà ancora più in basso e così via kid boo è un equivalente di tarles che però ha stats da esa quindi qualcosina in più lo riesce a fare però anche lui buffer universale appena iniziano ad uscire ancora più buffer continuerà a perdere 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 per ora sono qua abbiamo poi l'ex shit q quarto che è l'unico pg shit che si è ricreduto ed è diventato un qualcosa di buono leader full power nella sua versione tech che quindi vi fa giocare gokusa con tien però problemi difensivi a gogo si muove in base agli hp è un po' problematico ma funziona per funzionare funziona aspettiamo il prossimo leader full power super cattivo e bello tosto appena esce crollerà anche lui broly fisico esa uno dei dieci migliori pg come danno del gioco fa tanto 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 male se lo avete full ability provatelo perché davvero vi può sfondare intere fasi di road da solo ha problemi di giocabilità un pochino non lo giocherete ovunque però dove lo potete giocare non vi farà schifo è comunque un buon pg abbiamo poi vegevo fisico dei tre pg complete dei tre pg evolution evolution è quello più in alto non l'abbiamo messo più in alto perché comunque non è leader alla fine di praticamente nulla cioè nonostante tutto ragazzi ok vegevo agl fa meno danno si ma lo risulto più completo come pg non ha il cambio di link anche se vegeta non è cambio il cambio di link chissà quanto terrificante però io ce l'ho ability 3 adesso questo vegeta continuo a preferire il mio agl ability full che non cambia nulla tra lui ability full e lui ability 3 devo preferire usare lui come leader non sarà optimale mi dà più sicurezza può arrivare a valori di difesa molto interessanti e tutto quanto solo nonostante c'è da dire che è un grandissimo pg e può essere anche un leader un leader super o comunque anche di categorie non ancora uscite nel global parlando di categorie non ancora uscite nel global abbiamo il leader rival ovvero piccolo piccolo è un pg che funziona da dio ma si chiama piccolo e questo ha due problemi uno che non l'hanno chiamato camiccolo piccolo fusione kami piccolo fusione nail piccolo fusione mia nonna e non ha senso dato che hanno fatto alcuni pg trunks conoscete un certo trunks del futuro che esiste in 50 versioni che hanno 50 nomi diversi e possono giocare tutti assieme ecco perché non con piccolo piccolo tecnicamente ha tre versioni il far uscire questo pg chiamato piccolo ha tranciato le gambe al pg però è comunque leader di una categorie che mi piace la rival non è naturalmente lui che giocherete come leader rival andrete con trunks probabilmente però è un pg che è un muro inamovibile anche lui vi fa la rival non hai fatto capire il motivo per cui il problema è il nome piccolo semplicemente perché la metà dei nameciani se non di più sono tutti lui sono tutti piccolo i nameciani giocabili si chiamano piccolo tranne Nail che però guardate un po' Nail deve giocare con piccolo e anche il leader Namekian ma non mi non mi sento neanche di dire che è il leader Namekian perché Namekian è una tristezza penso che non esista ancora un leader completo Namekian decente di full tour almeno se lo chiami SSR magari qualcosa si però è triste e purtroppo questo è proprio un problema del gioco che se non sei un Saiyan oppure se non sei del clan di Freezer chupa e lo notate che come questa tier c'è più andiamo sopra e meno PG che non sono Saiyan fusioni con Saiyan hanno preso il corpo di Saiyan hanno mangiato un Saiyan sono del clan di Freezer ne troviamo e prima di parlare di fusioni che hanno preso il corpo dei Saiyan abbiamo Zamasu quanti aspettative avevamo per Zamasu Evo all'uscita mi ricordo ancora Blasi me lo pullò pensavamo fosse chissà cosa no Blasi non so te quando è l'ultima volta che l'hai giocato bel po' di tempo fa purtroppo il meta non è stato l'evoluzione di questo gioco non è stato proprio favorevole a questo PG attualmente soffre di questo problema allungiamoci il fatto che su Cell non ne ho trovato manco uno quindi il mio dovrebbe essere ancora ability free o uno mentre Trunks ability full e oltre e uniamoci ancora al fatto che è totalmente inutile la sua active nessuno sanno di mente attiverebbe mai l'active di Zamasu votiamo un PG che è sì leader del Realm of God attuale perché comunque è meglio di Goku Ultra Instinct sì comunque anche ad ability free in rival ma ha fatto il suo porco comodo sì il Road non mi ha fatto completamente schifo per la recovery ma come PG singolo come allora comunque rimane un PG di assoluto valore secondo me preso singolarmente il problema è poi andarlo a contestualizzare in determinati team o proprio nel meta attuale per l'appunto ragazzi trova poco spazio però però in fondo al tunnel ci sono due luci una chiamata Zamasu Tech ESA l'altra chiamata Rosea GL ESA perché comunque Zamasu Tech ESA penso sia il suo best partner forever se quello diventerà qualcosa di grosso e si riuscirà davvero a creare il Dark Realm of God di cui ogni tanto mi piace parlare ma deve diventare bello grosso però di parecchio ma in realtà basta che diventi bello grosso lui e bello grosso Rosea GL uno in un turno uno in un l'altro doppio di questo Zamasu potremmo già iniziare ad avere qualcosa di interessante però se non è così lui continuerà a calare ce lo vedete sempre più calare man mano che si va avanti perché purtroppo non ha neanche avuto la fortuna di Trunks ovvero essere leader super leader di 100.000 team no lui è leader ex team di quando ti viene bene due team e comunque non lo giocherai mai nessuno dei due tranne a rock peccato abbiamo quindi penso il PG se non lo sbaglio correggimi il PG non Dokkan Festival più in alto nella tier se non erro si si ovvero Goku Super Saiyan 3 Xeno ragazzi è una bestia c'è tanca fa danno è vicino alla perfezione come PG ha dei problemi qualche problemino in pochi link chi no scusate link di danno non è che sia un PG da 3-4 milioni come buona parte di quelli che vedremo sopra possono arrivare o generare però bel PG c'è la Road Super Saiyan 3 con lui è molto semplice la Rival Super Saiyan 3 con lui è molto semplice è un PG che aiuta è limited è limited quindi bisogna pullarlo però anche ad ability 1 o 2 inizia a fare il suo cioè i PG di Eros sono tutti stati delle belle sorprese quest'anno e qua mi piacerebbe tanto mi piacerebbe tanto lasciare a Manganelli che è qua ad ascoltarci aprire il suo microfono per parlare di un PG che è diventato leggenda con lui però non è in grado quindi lascio la parola a Blasi che potrà trascrivere la forza di Gogeza come viene chiamato ma personaggio che non direi nemmeno potenzialmente perché ormai si è capito quello che può fare può fare tante belle cose su di lui secondo me credo che ci siano state delle discussioni per quanto riguarda il suo posizionamento quando riguarda soprattutto anche il suo confronto con un altro Eza di cui fra poco andrà a parlare proprio Gigi vabbè sarà la sua controparte ve lo dico vabbè ma lo stanno vedendo comunque a schermo no? oppure li metti in mano? no 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 ok quindi già state vedendo tanto le tier più alte quindi lo vedono comunque ah va bene quindi state vedendo comunque Gigi e Nemba c'è stata un pochino di battaglia forse in questo posizionamento forse Gogeta io lo ritengo un attimino più immediato nel senso è un PG a tratti anche stupido secondo me non stupido per stupidi permettetemi perché come quando era uscito nel Japanese Global la prima volta classico sì alla fine guardate nei team in cui gioca manco devi star lì a prendere la orb cioè praticamente in perma 12 dovete star lì forse solo a prendere le rainbow per fargli fare giusto quel quel poco in più di danno e però fa tutto cioè allora fa tutto in che senso fa tanto danno può fare veramente tanto danno soprattutto se è buildato full additional quello poco ma sicuro difensivamente parlando è mediocre mediocre forse è questo proprio il motivo per cui piazziamo sopra Gianemba che è più consistente però qui sto anticipando secondo me alcune cose per il resto vi dicevo nei team in cui può giocare veramente tantissima roba però forse un pochino per poca giocabilità un pochino per la sua difesa un attimino mediocre non riesce ad andare oltre però per il resto ragazzi tutt'altra roba rispetto al Gogeta int attuale quindi GG come avete visto è in un baratro irraggiungibile Gogeta str invece ha davvero molta più giocabilità come vi ho detto Blasi però qua c'è il mio zampino ho preferito mettergli davanti e non dietro Gianemba ragazzi Gianemba soffre di un solo grandissimo problema non lo giocate veramente da nessuna parte se non fate le road oppure se non avete dei team deboli fate la rival però potete star sicuri che quando lo giocate seppur non sia optimale da nessuna parte seppur qualsiasi cosa si nota che lo giocate ha dei link carini Fear and Fate Shocking Speed link accettabili qualche problemino di chi magari non sempre sono uscito in ad esempio cos'era Movie Bosses se non sbaglio lanciare la 12 key però difensivamente l'ESA dell'INT è davvero tanta 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 roba è una di quelle cose fantastiche è la versione migliorata dell'STR si vede che è un ES un'evoluzione di un concetto che era già stato un'evoluzione di un concetto e lui funziona totalmente fai sui 2 milioni e mezzo tanca evade guardia fa di tutto e funziona più che bene funziona davvero bene e son felice di metterlo qua metterlo più in alto non sarebbe stato giusto ma questa posizione secondo me vi fa capire che è davvero uno degli ES a cui mirare se ancora non lo avete e avete difficoltà magari nelle sue categorie grande pg grande possibilità e falso sporco lavoro grazie a tutti